rivoluzione digitale e gogna mediatica capiamo di cosa parliamo è una rivoluzione internet sì è una rivoluzione la tecnologia digitale ha portato cambiamenti in tutti i comparti della società e come conseguenza cambiamenti fondamentali ed importanti nella vita dell'uomo questo significa che è una rivoluzione in passato sono state rivoluzioni quella francese che ha cambiato il rapporto dell'uomo con le regole con il diritto ma anche la rivoluzione industriale che ha cambiato del tutto il modo di produrre e quindi ha stravolto la vita dell'uomo allora parliamo di qualcosa di cui non possiamo disinteressarci conoscere la tecnologia digitale è fondamentale perché non è una realtà parallela è parte integrante della nostra realtà va conosciuta per essere usata con tutti i vantaggi conseguenti ed anche per non essere succubi di quelli che invece sono fenomeni negativi uno di questi è la cosiddetta gogna mediatica è diversa la gogna mediatica dalla gogna del passato sì è molto diversa la gogna nel medioevo era una pena arrivava irrigata da coloro che amministravano giustizia ed era quindi formulata sulla base di valori condivisi dalla comunità in più era temporanea era l'esposizione del condannato al pubblico ludibrio è vero come oggi ma c'era dietro appunto un sistema di valori oggi è completamente diversa la gogna digitale prima di tutto non è temporanea su internet tutto rimane per sempre e poi cosa molto più importante la gogna mediatica non è la conclusione di un procedimento di giustizia né tantomeno il frutto di valori condivisi spesso è solo lo sfogo arbitrario e astioso di qualcuno che usa la tecnologia per il proprio sentire soggettivo contro qualcun altro non ha niente a che fare con uno scopo sociale e con il bene comune non ha niente a che fare con uno scopo sociale non ha niente a che fare con uno scopo sociale non ha niente a che fare con uno scopoaban